Torna Soverato dopo quasi due anni da capitano del Martignacco e si prende una bella soddisfazione perché ottiene una vittoria 3-0 Lara Caravello con la sua squadra, una vittoria pesante non solo per la classifica ma anche per la prestazione che avete offerto oggi. Sì, venivamo da un periodo un po' difficile, mercoledì abbiamo giocato la Coppa Italia giocando molto bene e questa era una grande prova per noi e l'abbiamo portata a casa bene, molto bene. Siete stati sin dall'inizio presenti nel campo, vostre caratteristiche principali, siete una squadra coriacea che difende veramente tanto, il Soverato forse non è stato brillante come al solito però voi le avete messi in difficoltà soprattutto con una battuta molto incisiva. Sì, la battuta ci lavoriamo moltissimo durante la settimana e dà i suoi frutti in parecchie partite quindi molto bene. Ne ho promossa ma in piena zona per la pool promozione, per accedere alla seconda fase sicuramente un motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutte voi. Sì, non ce l'aspettavamo e sta andando molto bene, speriamo di continuare per poter passare nella pool promozione appunto. Infine sensazioni, tornare da ex a Soverato dopo comunque un'annata in cui il Soverato si classificò quarto, semifinale playoff, un'annata molto intensa anche quella quindi tornare adesso. Tornare a Soverato è sempre molto bello, ho visto un sacco di persone, mi ha fatto strapiacere e mi piacerebbe ritornare quindi speriamo di rivederci presto. Giada Boriassi e Ludovica Guida ai nostri microfoni nella post-gara con Martignacca una brutta sconfitta non solo nel punteggio, ma probabilmente quello che brucia di più è la prestazione che non è stata brillante come in altre occasioni per il Soverato. Sì, c'è da dire che perdendo un elemento come Ramona è stato difficile ricreare comunque un bioritmo interno alla squadra per poter affrontare questa gara. Ci è mancata la grinta perché comunque abbiamo tenuto testa soprattutto nel secondo e nel terzo set ma non abbiamo mai concluso. E ora anche con Giada Boriassi commentiamo perché nel secondo set dopo il primo parziale perso malamente c'era stata una reazione, eravate avanti 15-7, poi probabilmente avete sofferto un po' troppo in ricezione quest'oggi la battuta molto incisiva di Martignacca. Sì, da un lato loro hanno battuto molto bene, noi abbiamo un po' tentennato appunto e peccato, c'è mancata la grinta nei momenti decisivi, la palla doveva essere messa a terra e non è stata fatta. Con coach Marco Gazzotti commentiamo questa bella vittoria del Martignacca qui a Soverato, una vittoria importante non solo per la classifica ma anche per il morale, tre punti pesanti che vi consentono di rafforzare questa quinta posizione. Sì, sicuramente tutto quello che hai detto tu è giustissimo. Noi non ce l'aspettavamo perché sapevamo che vincere qua non è mai facile per nessuno. Ovviamente abbiamo anche un po' beneficiato dell'assenza del loro posto, però credo che noi abbiamo fatto oggi una grande partita sotto tutti i punti di vista, soprattutto in difesa e in battuta, le abbiamo messe in grossa difficoltà. Quindi tre punti qua per noi sono veramente oro perché insomma dobbiamo lottare con i denti e con le unghie su tutti i campi quindi vincere qua non era semplice e non sarà semplice per nessuno. Quindi sono sicuramente tre punti che ci fanno piacere e ci danno un morale molto alto. Commentavamo anche in Telecronica, probabilmente il servizio molto incisivo è stata la chiave di questa partita perché ha messo in chiara difficoltà la ricezione di Soverato e ha permesso al contempo al Martignacco di effettuare numerosi break come è successo sia nel primo che nel secondo set quando avete rimontato da 15-7. Sì è vero, quello della battuta era un fondamentale su cui noi sapevamo che dovevamo forzare perché dovevamo creare problemi alla palleggiatrice e alla loro distribuzione. L'abbiamo secondo me interpretato molto bene, abbiamo secondo me comunque commesso anche degli errori stupidi soprattutto nell'ultimo set quando Soverato era chiaramente in crisi e quindi abbiamo anche rischiato di rimetterli in gioco però nei primi due set ha funzionato veramente molto bene, insomma una grande incisività, una grande precisione e questo insomma ci ha dato sempre quei break di due o tre punti ad ogni turno di servizio che ci hanno permesso di vincere bene il primo ma soprattutto di rimontare il secondo che è stata ovviamente la chiave del match. Grazie a tutti!